Buonasera e bentrovati, questa è radioserena.net, io sono Stefano Moscatelli e questo è un nuovo appuntamento settimanale con Soundscape. Buon ascolto! 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 La voce delicatissima della finlandese Franca Orosa. Questo brano si intitolava Indecision. Ci sono anche delle cose italiane uscite recentemente. Italiane come personaggi ma cantate in inglese. è il caso della milanese Uina. Buon ascolto! Buon alscolto! Buon ascolto! This week la stiamo dalla volta! Buon ascolto! Buon ascolto! Grazie a tutti. 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 Bastano due accordi di piano Fender Rhodes per entrare subito in quella che è una dimensione un po' più sofisticata. Sono i 3017. Grazie a tutti. 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 Yesterday. Yesterday. J. australiano e... 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 Melonix sono due sorelle di Nottingham e compongono questa musica piuttosto particolare che risente dei vecchi suoni della UK Garage di un po' di anni fa, musica che guidano in l'Italia ha avuto pochissima presa ma anche al sottoscritto piaceva il casino. Si parla spesso da noi di musica sudafricana e gli europei cominciano a interessarsi, soprattutto uno dei maggiori in assoluto che è Ralph Gham. Lo ascoltiamo in questo pezzo con la cantante Simmi, how deep is your love? Would you cross the ocean and the highest mountain? Would you try everything and not give up? Iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Non si scappa, se vi piacciono queste sonorità, poco da fare. Il signor Ralph Gamm è uno dei numeri uno. How deep is your love? Era Ralph Gamm con Simi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi cari amici siamo arrivati al termine di questo appuntamento settimanale con Soundscape. Vi ricordo che siete su radioserena.net. Io sono Stefano Moscatelli che vi ringrazia infinitamente per l'ascolto e vi ricorda che se avete piacere di riascoltare la puntata, vi potete recare sul canale YouTube che porta il mio nome e cognome dove vengono caricati tutti i podcast. Vi lascio con i blue lab beats e night in Havana. Alla prossima. 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 Alla prossima.